E salve a tutti amici di Cooper e bentornati in un nuovo video su Next Days Sono passate credo l'ultimo video che sia uscito due settimane fa quando ancora ero in vacanza E non mi aspettavo che andasse così bene, davvero, cioè è andato veramente bene Vi ringrazio tutti quanti e ho trovato un M4 No dai, io voglio l'M4 Butto il Saiga, prendo l'M4, dammi l'M4 Oh cazzo, il mio primo M4 Fortuna? 556 45 Non ne ho 556, 45 No Va bene E... oh Dai Aspettate, perché qui è un po' Ora, prendo qui le cose e vi finisco di spiegare le cose Io lo voglio il toolkit, mi serve per la macchina Saiga, non ce l'ho Dimmi che lo posso prendere ora Ah, it ematted No Oddio, che cosa posso buttare? Mmm Questi E dai Vabbè, nulla Non riesco a fare un po' di spazio per prendere quello Pazienza, tanto di colpi ne abbiamo Eh, a voglia Allora Faccio questo video sul next day A parte che avevo detto che comunque lo continuavo a portare Perché è molto bello E ci sta con il canale che ho Quindi ovviamente continuerò a portarlo E hanno aggiunto 6 nuove missioni per la mia fazione Quindi teoricamente se torno qua poi dovrei trovare quello che mi dà la missione Perché sono un looter E quindi mi hanno aggiunto 6 nuove missioni Credo quindi praticamente proprio anche a buco di culo che sono looter e tutto quanto E quindi E quindi direi che Perché allora Cioè oggi facciamo una missione Vediamo se riusciamo a farne una E poi vi lascio Se riesco in alto a destra La scheda Così vediamo se Questa settimana Preferite un altro video di next day Quindi uno oggi E uno la prossima volta O uno di next day Quindi questo che state vedendo E il prossimo di escape from tarkov Quindi Eh Me lo dite Cioè me lo dite voi Insomma Cioè lì cliccate Cosate Se non riesco Lo dite nei commenti Quindi io direi che Cioè vado Qua Che butto tutte le cose nello storage E poi ci vediamo Là insomma Mentre butto la roba E poi Vediamo se riusciamo a prendere la missione Ok allora Di nuovo Un'altra volta Ci siamo imbattuti Qui E quindi Cioè per andare là Proprio Cioè Staccato Aia Spero Spero fosse Solo uno No 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 Bravo Va a tenere lì dietro No perché se morivo Proprio adesso Mentre mi curavo Che succede quasi sempre Mi girava giusto un po' il cazzo Che quanto è 37 Ma se tipo io faccio Così Allora lo vedi Meno 3 reputazione E tanto I civilian Ok Ci ricuriamo Tanto non credo che gli possiamo anche luttare Anche se ho usato un po' di cure E se magari posso usare un'altra Però siamo a 29 79 su 30 Quindi Non credo Che possiamo Luttarli Almeno che non abbiano uno zaino più grande del mio E quindi faccio lo switch Ok Ora sono messo bene Allora Vediamo un po' Allora Te amico Avevi Allora Questo qua è quello Piccolo Eh Questo ovviamente mi interessava Però Non lo posso prendere C'era quest'altro Ma lui aveva Quello Un altro toolkit Eh Ok Non posso prendere nulla Nemmeno qualcosina Beh Dai Questo No ok Vabbè niente Non prendiamo nulla Manca i guanti Non ti guanti Non credo di proteire Non ti fanno nulla E quindi vabbè Torniamo là Torniamo Andiamo Dove dobbiamo andare già prima E ci si vede là Insomma Ok Siamo arrivati Nella nostra zona Sicura E ho aperto Il Il coso La server list E siamo Tutti looter Tranne due neutral E Wow Wow Qui nulla Cioè Saremo più sicuri Almeno che Della gente Non vogliono diventare Non vogliono diventare Dei traditori Però allora Vado qua Perché Qua ogni tanto C'è anche il loot Quindi Voglio controllare E oggi Come vi siete accorti Mi sono ricordato Di mettere il gioco In 1920x1080 Quindi non lo vedete Con le bande nere Sopra e sotto Anche se è carino E credo forse Dai prossimi video Escape uscirà Non in 1080 Ma in 720 Perché Se metto il gioco In 1080 Oh Sono tutti qua Se metto il gioco In 1080 E In finestra Succede un burdello Vedo tutto male Oh salve Salve Invece se lo metto in 720 Agge Già questi mi scriveranno Don Grilletto Mettiamo la chat Vediamo cosa Se chiedono qualcosa Vediamo se sono tipo italiani Don Grilletto È troppo italiano Quello con il WSS Ok l'ho risolto E nulla Allora Qui dentro Devo buttare L'M4 Credo io Di avere un po' troppo I colpi Ah Oggi sono 26 Mi butto via Questo Non mi serve Ma sicuramente Mi ritengo Metto via Tutta questa Roba 30 li metto via Ma sì Qui le cure No abbastanza Ok Quanti colpi ho? Eh Non posso Eh Prendo questi altri 30 Adesso No 86 Va bene 86 vanno bene Ok Allora Una volta posato Tutto Ah qui Musica Cosa vuole da me Questo Ok Per la ventesima volta Ci si vede Qua L'avete visto tutti L'avete visto tutti Uno neutrale Che c'era Stava venendo da me E Io Non potevo fare altro Perché lui mi avrebbe ucciso Lo zaino ultrabomba Wow Aveva questo Dammi sta roba Dimmi che la posso tenere Bene Molto bene Avevi un'arma Se ce l'avevi Che tipo di arma era? Non avevi un'arma? Regular Che cos'è? Eh Non avevi un'arma? Boh Va bene Mi dispiace amico Però Eh Insomma Ti mostri così Ah questo Ok Ti mostri così Sei un neutrale Un coso Non so se si possono Allora Le azioni Non si possono annullare Da una cosa che Dovrebbero cambiare Perché ovviamente Se te stai per bere Puoi mettere subito via Però Non si può fare Quindi Ti possono fottere In questo modo Sono contento Questo aveva Credo Lo zaino Più grande Non lo so Perché 35 kg E 30 slot Giusto? No 30 kg E 35 slot 30 kg Ah Ok Dal colore Mi sembra invece lo stesso Bene Ok Tanto lì Ci siamo Quasi arrivati E Nulla Io so Che ci sono Non so Cioè Insomma Non so Nel vecchio video Questo qua Di next day C'era della gente Che hanno Postato il loro discord Di next day Dove giocano a quello E non l'ho tolto L'avrei potuto levare Avrei potuto contarlo Come spam Ma non l'ho fatto Perché comunque Sono contento Che la gente venga E comunque Giochi insieme A questo gioco Se magari qualcuno Ci vada E sono contento Se qualcuno Lo fa E sarei anche contento Se uno di questi Che sono magari Un bel gruppetto Lo stanno vedendo Questo video Mi piacerebbe Giocare anche con loro Per portare un video Un po' diverso Con altra gente Insomma Non sempre Il classico Long player E gioco con altra gente Insomma Almeno Non sono da solo Eccoli un altro Neutrale Forse quello che ho ucciso Prima Non lo so Di chi c'è qualcosa Non lo so E nulla Quindi si E nulla Se vi va Si gioca tutti insieme Si porta il video E tutto bello Allora Questo che cos'è Un metal tube Che rimanga lì Dammi questo Il latte Che teoricamente Si ok Infatti il latte Lo yogurt Tutte cose sono i migliori alimenti Perché prendono poco E fanno entrambi Ok Allora Torniamo dal nostro amico E Si dà tipo Tutta sta roba Perché forse sono Un po' troppi Via 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 E via Ok E Ho comparsa altra roba Via Via No Sì Via Via No Questo me lo tengo E metto via Solo quella roba Ok A posto Quanti colpi ho Che non vorrei Ovviamente Perdi Va bene 30 62 Forse un altro Po' Qualche D'uno Ma Tipo questi No Non si possono unire No Ah Io direi un'altra Trentina Dai Ok Ecco ci sono i nostri amici I nostri belli amici Biker Grows Ok E nulla Allora Ci sono le nuove missioni Ok Però Teoricamente si vanno da lui o dal dottore Si leva l'arma Questo non mi dà nessuna missione Questo non mi dà nessuna missione Questo non mi dà nessuna missione E Chi dovrebbe sentire per le nuove missioni Vediamo un secondo se qui c'è Delle interesting loot E No Niente interesting loot E davvero Come Si prendono Le nuove missioni Da Qui qualcosa No Allora Ho controllato Eccetera E Cioè dicono soltanto Che sono state aggiunte E non c'è nessuno Che si è Magari lamentato Dicendo che non Le trovava Non c'era niente Nuove missioni Eccetera Quindi Non saprei Perché Io qui ho provato a parlare con tutti Non mi danno nulla Qua vabbè C'è qui Le Le classiche cose E quindi boh Non saprei Come Trovare Quelle nuove missioni Io potrei Benissimo Tornare Qua Controllare un attimo Perché si Potrei farlo Insomma Controllare Vedere se Insomma Le hanno messe di là Perché io so Cioè tutte le volte Che dovevo fare una missione Deve andare lì Quindi provo a tornare qua E boh Vediamo un pochettino E ovviamente Nella speranza che Nessuno mi ammazzi Però tanto I lu I cosi Neutrali Stanno in quella zona lì Perché insomma Stanno facendo le prime missioni Infatti c'era uno che aveva ancora La tutina Quella Hazmant Che se magari lo trovo fuori Non ho problemi Lo ammazzo Perché sinceramente Mi farebbe comodo Visto che non ce l'ho Perché l'avevo persa Anch'io proprio in questo modo Andando a fare la missione Mi hanno ammazzato E quindi Nulla Vado là Vediamo un po' Se si trova quello della missione Solo praticamente Questo è stato un video In cui giravo Che ovviamente Non vi ho fatto vedere tutto Ovvio In cui giravo Ho ammazzato qualcuno Quelle due E poi quel player E niente E quindi si Insomma Potevo passare Tipo tagliare Andare direttamente qua Vedere Che fare così Però qua ci sono i militari E i militari Non si fanno da soli Cioè Sono diversi E da solo morirei Forse Quindi Cioè Non voglio rischiare Quindi Ovviamente Preferirei avere un gruppetto Perché sinceramente Non ho nessuno Con cui giocare Ho diversi amici Che ce l'hanno Ma Nessuno vuole giocare con me Perché mi odiano E quindi nulla Eh Mi stavo Ok Sistemando il braccio qui E niente Andiamo Sì Alla fine A forza di parlare Ci siamo già arrivati Ma comunque Arrivo là E ci si vede là Insomma Ok Allora Siamo tornati In quest'altra zona Nella speranza Di trovare Quello che ci dà La missione Perché sinceramente Mi dispiacerebbe Aver portato Un video Dove Cammino Uccido qualcuno E basta Avrei voluto Fare la missione Quindi ora Si spera Cerco di parlare Un po' Con tutti E quindi Boh Vediamo Te Te mi dici cose Allora Qui si ok Qui siamo Partiamo da qua Allora Lui Non dici nulla Non credo Che questo Di ammissioni No Infatti Vediamo qua Nulla Te suoni la chitarra Testa È seduto Tu dici le stesse cose Dicono gli altri Tu Hai detto qualcosa Di diverso Idem Nulla Tipo questo Si può sistemare Vabbè E nulla Davvero Non so dove prendere L'altra missione Io dopo Magari Cerco di trovare Come si prende Quest'altra missione Se c'è qualcuno Che lo sa Magari Che me lo dica Perché È almeno Magari dal Prossimo Vi porto Il video Con la missione Così magari Facciamo Ogni video La missione Cioè Ogni video È una missione Diversa Così È più bellino E ci sono più conti Insomma ci sono Conti diversi Ogni video E niente Sono un po' depresso Sono abbastanza depresso Perché Minchia C'è Era Era il nostro Coso Era il nostro Era il nostro Video Dove C'erano le Prime Missioni nuove E invece Non Non so Come si prendono Quindi nulla Io Non ho nient'altro Da dirvi Sinceramente Ora non ho nulla Da farvi vedere Perché il mio intento Per questo video Era quello Di portarvi Le missioni E invece Ho fatto tutt'altro E niente Missione Quindi niente Ragazzi Che dirvi Se vi è piaciuto Menzellate Ma il like Sono stato depresso Perché sono depresso E niente Io vi ringrazio Per questa visione Vi ringrazio Più soprattutto Anche perché Siete sempre In tanti Sotto i video Nei commenti In diversi Lasciate sempre Mi piace Che io Non diventerò Come quelli Che chiederanno 50.000 like Così Anzi 36 like Così Nel prossimo video Vi faccio vedere Come ci si leva i pantaloni E qui Che è successo Ok Ok Nulla Ecco